Hello amigos e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qua su Inside Allora dobbiamo ricominciare, cioè dobbiamo continuare più che altro la nostra avventura Perché nello scorso episodio erano tutti ipnotizzati di preciso Non sappiamo cosa è successo Comunque vi volevo dire che se me la ricorderò Qui in alto a destra lascerò diciamo un sondaggio Ogni tanto, magari in qualche video lo farò se me ne ricorderò Semplicissimo perché... Ok, dobbiamo vedere perché mi sembra che dall'altra parte non sapevamo come salire mi sembra Andiamo un attimo a vedere Perché comunque a me questo gioco mi sta piacendo Non mi piacciono molto gli horror, devo essere veramente sincera Però questo mi sta veramente piacendo Ora, io credo che ci sia qualcosa sotto Ora, dobbiamo risalire perché non vedo l'ossigeno Quindi non so quando stiamo per morire Ok, perché non ci dà un segno Di quando stiamo per morire Quindi ho... Oh Allora ragazzi, lì ho visto una cosa rossa Quindi forse... Non morire ragazzo, non morire Bene Perfetto Infatti Ok, no E la spingiamo, credo, sì, ok E la spingiamo in modo che possiamo salire Ok, e questo già è una cosa che abbiamo fatto Perché sono tipo un sacco di enigmi e cose varie Che io non sono molto brava a risolverli Però se mi ci impegno Li faccio Allora, allora, allora Una grata Credo che dobbiamo andare qua Ok Ok Stai voglio vedere se... Magari mi faccia vedere là Però, ok Wow Cos'è, raga? Wow Cos'è? A parte che sta piovendo di nuovo Ok Ok, da qua possiamo andare? No, allora Dobbiamo per forza Facare questo Così No What? Oh Ok Qui Di qua Di preciso Non sto cap... Eh Ah, quindi Adesso facciamo praticamente riabbassare l'acqua Quello si apre Poi credo che velocemente Ok Io credo che Facciamo così Vai No, è impossibile Oh, guarda Qui c'è qualcosa qui su Forse ci possiamo arrampicare, ma Ok Dobbiamo un attimo capire Come fare Allora Qui non c'è assolutamente niente L'unica cosa che possiamo fare è entrare qui E abbassare O alzare l'acqua E questo l'abbiamo capito Ora Ma dai Ok Perché l'acqua si alza subitissimo Non puoi farlo da qua Vai 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 E no Forse ho capito Aspetta Sali su E l'acqua sta fino qui Ora noi andiamo qui sotto Yehey Bene Ora Continuiamo Ok Cosa Che cos'è Si è oscurato tutto Si è oscurato tutto Si è No Ho paura che Non so Cavolo Si sento quel rumore Raga Non so cosa potrebbe servirci Non hai idea Non Non saprei Ah Quando c'è Allora Me la mettiamo qua Si 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 Ok Ecco cosa ci serve Quella catena Facciamo salire l'acqua Bene Sali sulla valigia Ecco E noi Aspetta Ok E noi Possiamo salire Bene Ok Siamo In una metropolitana Mi sembra Ok Ok Oh no No Non mi piace Questa luce Ok Ah Ecco quella Che fa Ecco quella Che faceva luce Lì dentro Non credo Che potrà Esserci Cioè Non credo Che Ok Ok È una cosa complicata Per chi Devo seguire L'ombra Ci sono anche Degli ipnotizzati Lì Ah Ok Oddio L'ansia Ok L'ultimo sforzo Bene No 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 Come Come Non c'è Arrivato Ok Forse Quello Dobbiamo Abbassarlo Un po Dovremmo Dovremmo Avere Più pazienza Prima Ma almeno Dopo Possiamo Essere Al sicuro Ok Ok ... 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